Among Us, ma se muoio in Electrical, il video finisce. Iniziamo. Morirò subito. Sub durerà due minuti sto video. Che quale? Amici, benvenuti su Among Us, sono Azzurrino, mi chiamo pure Electrical e ovviamente, come dice il titolo e come vi avrò detto nella intro, se schioppiamo ci esplodono in Electrical, il video finisce e voi direte, ma ma sare facile, basta non andare in Electrical? Ovviamente, da buon e saggio crewmate, dovrò fare tutte le task possibili che vedete sulla sinistra. E niente, ho già trovato un dead body prima che finissi. Dicevo, perciò, dato che avevo una task in Electrical, non so se l'avete vista, devo farle tutte, quindi speriamo che non ci uccidano quando farò quelle task lì. Nel dubbio, where? Così, non fa mai male. E mi sa che quei due sono italiani, ve la butto lì. Allora, Pier Checco, come cacchio ti chiami, Bianchino, non mi uccidere in Electrical che uno devo fixare le luci. E già, e già fixare le luci in Electrical, ma guardalo lì, guardalo lì che parola. Ha ventato! Ha ventato! Amici! Emergency! No! Non mi uccidere! Ma che cacchio? Corri, 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 corri! Buono! Sì, questo era il rumore dell'emergency. White Vented! Bitch! Eh sì! Eh sì! Il rosa però mi ha votato, quindi mi sa che il rosa è il socio. Sì, il bianco, dai, abbiamo visto. Comunque, il rosa mi ha votato, quindi mi sa che il rosa è il suo socio. Ora, se mi tagli la gola mentre vado in Electrical, mi sa che la taglierà al blu la gola. Vabbè, nel dubbio, andiamoci a fare la nostra quest, sperando di non schioppare. Fatta, fatta, fatemi solo uscire. Devo, ok, devo fixare le luci, signori, fatemi fixare le luci. E poi me ne vado per sempre da Electrical. No! No, bianco! Eh, cioè, non bianco! Eh, ma che cacchio! Non mi ucciderà! Cioè, se vuoi uccidimi! Ma non è l'Elettrica! No! Rip! È stra lui! È stra lui! Oh! 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 Ma no, quanto brutto essere nella cosa con un killer! Dai, uccidimi sulla cam! Dai, uccidimi dove c'è la cam! Schifoso rosino! Eh? Schifo rosa! Eh? Eh? Aia! Dai, mi vuole uccidere, pali! Era più pali... Ma ti hanno visto le cam! Godo! Godo! Dai! Eh, sì! Ben avocado a casa! Prima vittoria! Fatta! E non siamo morti in Electrical! Seconda... Seconda partita! Dai, impostore, impostore! Uh, siamo impostori! Oh! 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 Eh, il video non finirà in sto video, eh! Eh, il video non... Cosa ho detto? Il video non finirà in sto video! Ma no! Allora, Kamalulu! Kamalulu! Eh, niente! Gua, se mi... No, se mi votano piango! Dai, mi chiamo Electrical! Allora, mi sembra una lobby di imbecilli! Buttiamo... Ve la butto lì! Facciala doppia! Facciala... No, non possiamo! No, non possiamo! Addio, azzurrino! Oh! Sotto! E mi sa che vinciamo per l'ossigeno! E sprata! Due! Uno! Che vittoria! Scema! Soprattutto che lobby! Scema! Stacca, stacca! Oddio! Si vola! Sto volando! Ah! Allora, sono in Electrical e c'ho ben due task! Allora, quella dei fili... Is... Eh, niente! L'ossigeno... It was at this moment he knew he fucked up! Torneremo dopo... Si... No! Siamo morti in Electrical! Addio!